Che cos'è la sensitività? Per sensitività si intende la capacità da parte di alcune persone per evoluzione raggiunta di percepire determinate vibrazioni provenienti dai vari piani di esistenza e anche le vibrazioni che eventualmente restano impresse negli oggetti. For Auld Lang Syne For Auld Lang Syne For Auld Lang Syne We'll take a cup of kindness yet For Auld Lang Syne And surely you'll buy your pint And surely I'll buy a mine We'll take a cup of kindness yet For Auld Lang Syne For Auld Lang Syne